Dobbiamo andare d'accordo! Una mignotta, una madrina e una portagliella. Ma di che parlate voi tre? Di che? Da Vincenzo? Qua un uomo non lo troverò mai. Con questa momea che portugliella. Ho paura che Rocco mi faccia le corna. Lui ti insulta, ti tratta male? No. Ti fa le corna sicuro, 100%. Ispettore Nico Malaghiere, Da quanto tempo Olivia è amica di Gilda e Crocetta? Prima di tutto, a famiglia. Ha mai visto dei soldi strani? Oppure delle armi? Dov'è suo marito? Voi tre insieme? Che ci fate? Siamo amiche. Io ti prendo il collo! Ma che ti fai la maschera alle quattro di mattina? Ho notato che sparare. Mi secco la pelle. Ma che ti fai la fuori di questo per tecnico. Ho una data. O ora la... allo la... Grazie a tutti.